Credo che sia un evento importante per tutti, credo che la famiglia nel mondo Milan sia una cosa fondamentale, una cosa importante. La società ci è stata vicino tutto l'anno, anche quando non venivano a vedere le partite e poi ci fa ancora più piacere che ci sia anche Stefano a vederla perché è un segnale importante, un segnale che la famiglia Milan è una famiglia completa. Ci sono tante emozioni, la prima finale nostra, la finale della Roma, un percorso fatto da noi in Coppa Italia dopo aver battuto l'Inter e ribaltato il risultato dell'andata, abbiamo superato il turno con Sassuolo e non è stato facile, arriviamo in finale, secondo me è una finale meritata da noi. Ritornerà al pubblico, ci saranno tanti tifosi rossoneri, siamo anche noi consapevoli, siamo felici che tutti i tifosi rossoneri potranno venire a vedersi dal vivo ma ci saranno anche tanti tifosi rossoneri che ci guarderanno in televisione, quindi abbiamo questa grande responsabilità di dare tutto la responsabilità di dare tutto e di vedere poi cosa succederà, pesta, gambe, cuore, io aggiungerò anche il cuore. Non dormirò come non ho dormito in tutto il campionato quest'anno e l'anno scorso, la sera prima ma anche le sere precedenti alle gare, dormo poco ti viene da pensare, ti viene da pensare se hai fatto tutto quello che c'era bisogno, se la formazione è giusta, se hai lavorato su tutti i dettagli possibili, immaginabili della partita però dormirò poco, però dormire poco non vuol dire non essere carico, sono carichissimo come lo sono le giocatrici. Colgo l'occasione per ringraziare Betty Bavagnoli e anche Rita Guarino perché il giorno dopo la qualificazione Champions mi hanno mandato un messaggio che io ho apprezzato tantissimo le nostre guerriere dal primo giorno che le ho allenate, si erano scorsi quest'anno, loro non lesinano la fatica mi meraviglio ogni volta che io le alleno perché hanno voglia, hanno voglia, sentono che è il loro momento, sentono che è un momento importante nella loro carriera quindi mi meraviglio e io sono contento che siamo arrivati in questo momento, in questa finale perché si meritano tutto quello che è capitato in questo anno e mezzo sia il primo anno che quest'anno. Una finale di Coppa Italia ad allenatore è un lavoro totalmente diverso sono sicuramente più agitato delle mie giocatrici, ogni tanto qualche giocatrice mi dà una pacca sulla spalla perché mi vedono teso ma io le partite come da giocatore le sento in questa maniera, quando non sentirò queste cose qua vorrei dire che dovrò smettere anche di fare allenatore però credo che l'attenzione ci deve essere, ci deve essere la lucidità, le proposte di allenamento, i dettagli, l'importante è che ci sia poi la tensione c'è come ho detto prima, non dormirò niente stanotte ma non importa, l'importante è poi riuscire a dormire magari benissimo domani sera